Oggi venerdì santo è il giorno della processione dei misteri. Tutta Trapani si fermerà per la manifestazione più importante dell'anno e che richiama come sempre decine di migliaia di spettatori da tutto il territorio. I misteri si svolgono a Trapani dal venerdì al sabato santo da oltre 400 anni. L'origine è spagnola. La processione è composta da 20 gruppi sacri, si concluderà infatti oltre 24 ore dopo il suo inizio. Viene considerata una delle più lunghe manifestazioni religiose italiane sia per numero dei gruppi che per durata e soprattutto una tra le più antiche. La rappresentazione scenografica dei misteri è ambientata più nell'epoca medievale che ai tempi dell'occupazione romana della Palestina. I misteri sono la vivida rappresentazione artistica della morte e passione di Cristo. Per la realizzazione di questi gruppi non ci si ispirò all'iconografia classica, ma ad episodi citati nei testi sacri o nei Vangeli apocrifi, aggiungendo anche personali interpretazioni. Le più antiche e varie sono state intagliate dagli artigiani trapanesi con le raffigurazioni di putti, simboli del ceto di appartenenza o vedute di Trapani.